E dopo cinque anni Bebevio si conferma campionessa paralimpica nel fioretto femminile, lei che nel Rio 2016 divenne il simbolo di quella paralimpiade ma in generale dello sport paralimpico mondiale, la sua esultanza a solamente 19 anni, fece il giro del mondo, divenne un grandissimo fenomeno mediatico, lei che fu la prima a partecipare alle Olimpiadi nella scherma con una doppia amputazione sia degli arti superiori che degli arti inferiori a causa di una meningite fulminante che l'ha colpita a solamente 11 anni, gareggia con una protesi non si è arresa E' diventata un simbolo per tutti i ragazzi affetti da disabilità, uno stimolo a praticare l'attività motoria, l'attività fisica dando anche un grandissimo impulso al movimento paralimpico italiano, abbiamo visto una crescita esponenziale negli ultimi anni nel nuoto, nell'atletica, nel ciclismo, grazie ai personaggi come Bebevio, come appunto Zanardi che sappiamo tutti ha subito un gravissimo infortunio, un gravissimo incidente, l'ennesimo della sua carriera e gli auguriamo di poter guarire in più in fretta possibile Grazie a personaggi come questi, appunto, lo sport paralimpico italiano è cresciuto tantissimo, tantissimi ragazzi con disabilità hanno trovato appunto nello sport un modo per emergere ed è veramente una cosa bellissima E Bebevio appunto si è confermata campionessa olimpica, un percorso sostanzialmente netto per la campionessa veneta con nelle qualificazioni 5 vittorie su 5 con tanto di 5 a 0 in tre occasioni Battuta l'Armena 15 a 6 in semifinale e anche la russa Vasilieva comodamente 15 a 4 in semifinale Finale con la cinese Xinjing Zhu, tra l'altro semifinale tutta cinese per cui era chiaro che l'avversaria di Bebevio sarebbe stata un'atleta asiatica Una finale veramente molto tattica, molto combattuta soprattutto nella prima parte La prima stoccata arriva da parte della cinese che si porta sull'1 a 0 Poi però Bebevio fa veramente una serie incredibile portandosi sul 7 a 2 Due stoccate recuperate dalla cinese per un problema di Bebevio Non si è ben capito cosa sia successo, se un problema alla protesi, un problema muscolare all'avambraccio Non si è ben capito cosa sia successo però c'è stata una pausa di circa 10 minuti per sistemare la protesi appunto della nostra atleta italiana È ritornata con appunto una fase più o meno di stallo con tante stoccate simultanee e tanti botte risposte appunto tra l'italiana e la cinese Con a due terzi di cara appunto si sono portate sul 10 a 6 Ma poi è arrivata veramente l'unplan di Bebevio che si è riportata sul 15 a 7 Quindi finale dominata con un finale incredibile appunto di prova Bebevio si conferma campionesta olimpica Ma non siamo qui per parlare solamente di lei Voglio parlare un po' di quelle che sono state anche le altre gare dell'Italia E non solo in questa quarta giornata di Paralimpiadi Purtroppo non ho potuto portare le prime due giornate per le prime tre giornate per impegni personali Nonostante abbiamo guadagnato ben 4 ori In totale dopo quelle di oggi siamo arrivati a 18 medaglie con 5 ori Veramente una Paralimpiade fantastica per l'Italia sino a questo momento Per quanto riguarda le prime gare della giornata Abbiamo visto nel triathlon nella mattinata giapponese Nella tarda serata nella nottata italiana Nella categoria PTS2 Alissa Silei e Hallie Dance Le due statunitensi fanno doppietta Ma c'è la terza posizione dell'italiana Veronica Ioco Plebani Anche lei ha fetta da meningite Anche lei ha dovuto amputare le proprie gambe Così appunto come Bebevio Ed è riuscito a conquistare una grandissima medaglia di bronzo Nella sua categoria nel triathlon E poco dopo è stata seguita in un'altra azzurra Dalla calabrese la prima medaglia paranimpica per la Calabria nella storia Anna Barbaro guidata dalla sua guida Charlotte Bonen Che appunto è riuscita a conquistare l'argento nella categoria PTV1 Ovvero appunto la categoria dei non vedenti La vittoria è andata alla grandissima favorita Alla spagnola Susanna Rodriguez Terza posizione per Anok Curiliat La francese Tra l'altro sfida bellissima per il bronzo Con la britannica P. Good Che ha dato veramente tutto Arrivando stremata al traguardo Perché aveva visto O meglio la guida appunto Le aveva detto che davanti a sé c'era la francese Un finale incredibile Sul rettilineo finale Con la britannica che ha recuperato tantissimo Non è abbassata per il bronzo Però veramente una grandissima prova di voglia Una grandissima prova mentale Per la britannica Che ha chiuso in quarta posizione Problemi per la canadese Per la coppia canadese Con appunto l'atleta non vedente Che ha subito dei crampi Era in seconda posizione Appunto è crollata Fino alla stessa posizione Perdendo minuti e minuti Nella frazione di corsa Passiamo invece alle gare di nuoto Gare di nuoto Che questa volta non hanno visto l'Italia Come grandissimo protagonista Come abbiamo visto invece Nella prima e nella seconda giornata In particolare Con appunto le tre medaglie d'oro conquistate Le due di Bocciardo E quella di Carlotta Gilli Ma a dominare in questa giornata È stata l'Ucraina Bene cinque ori ed un argento Evgeni Bohaiko Che vince Bozdaiko Che vince i cento d'orso Categoria SB6 Maxim Kripjak Cento stile libero S10 Con il bronzo Per il nostro Stefano Raimondi Atleta appunto Affetto da disabilità minore La categoria S10 Una delle categorie Meno debilitanti Tra le disabilità Appunto Fisiche Lui ha un problema Con il movimento Del piede destro Se non sbaglio Perché Era già Una grande promessa Del nuoto Si allenava E si allena tuttora Anche con una Con un'altra Delle grandissime promesse Del nuoto Appunto Dei normodotati Stiamo parlando Di Thomas Cekon Poi un bruttissimo infortunio Con un incidente In moto Finì sotto un camion I suoi nervi Della caviglia Sono stati Completamente Recisi Dunque sostanzialmente Non può muovere Il piede E ha deciso Comunque di continuare Nel nuoto Continuare Nel nuoto paralimpico Gli ha conquistato Un oro E un bronzo Insomma Veramente una grandissima Paralimpiade Per Stefano Raimondi E la sua paralimpiade Non è ancora finita Quindi potrà portare Altre gioie Al movimento Appunto Azzurro Poi è arrivata Un altro oro Per l'Ucraina Con Mihailo Serbin E il cento d'orso Una doppietta Anzi Con Mihailo Serbin E il cento d'orso S11 Davanti a Victor Smirnov Poi è arrivata Anche un altro oro Con Denis Dubrov Nei 200 misti SM8 Davanti ai cinesi Zhu e Yang Cina che è stata Grandissima protagonista Della terza giornata La giornata di ieri Con veramente Domini netti In tantissime discipline L'ultimo oro Dell'Ucraina È arrivata Con Elisaveta Mereshko Una delle leggende Appunto Dello sport paralimpico Mondiale Nei cento rana SB5 Vittoria facile Per l'atleta Ucraina Che appunto Porta a 5 ori Il bottino Della nazione Dell'est Europa Che si porta in testa Al medagliere del nuoto Cina Che comunque conquista Altri due ori Quattro agenti Quattro bronzi Con una doppietta Con Liu e Zhu Nei 150 misti Donne SM4 E la tripletta Nei cento d'orso S11 femminile Con Kai Wangeli Con tanto di record Del mondo Per Kai Li Wen Per quanto riguarda Invece l'Italia Oltre al bronzo Di Remonti Arriva anche Un fantastico Argento Di Xenia Francesca Palazzo Nei 200 misti SM8 Vinti da una leggenda Anzi dominati Da una leggenda Dello sport paralimpico Mondiale Come Jessica Long Venticinquesima Medaglia paralimpica Quattordicesima d'oro Quarta Consecutiva In questa gara Lei che è andata Medaglia d'oro Ha conquistato almeno Un titolo Nelle ultime Cinque edizioni Da Atene 2004 Pechino 2008 Londra 2012 Rio 2016 Adesso anche Tokyo 2021 Veramente una leggenda L'atleta Statunitense Che è stata appunto Adottata Di origine Siberiana Lei che è nata Anche A causa appunto Del Del disastro Di Chernobyl È nata Senza La parte inferiore Appunto Delle gambe Senza la rotula Senza la tibia Senza il perone E nonostante questo Appunto È riuscita A ritagliarsi Uno spazio Importantissimo Nel mondo Dello sport Mondiale Tanto appunto Da diventare Una leggenda Letteralmente Appunto Delle paralimpiadi E non solo Dello sport Mondiale Comunque ragazzi Anche per questo Vi è tutto Mi piace Se non commenti Mi piace Iscrivervi Se non ci vediamo A un prossimo Video Che ci aspetta domani Un'altra grandissima giornata Nel nuoto Abbiamo tantissime speranze E poi anche tantissime altre gare Dove l'Italia Può fare Veramente Veramente bene